mi sono vaccinato, mi sono prenotato subito, credo nei vaccini, è giusto vaccinarsi, però è giusto anche non raccontare delle balle, cioè stamattina basta prendere Repubblica, non voglio dire un giornale sovranista oppure qualche, lei troverà su Repubblica appunto una frase, e cioè che il paradosso degli immunizzati che sono più ricoverati rispetto ai non immunizzati, sai chi lo dice? Abrignani, un esponente del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, un professore che forse ha più titolo per parlare di queste cose e cosa dice? Spiega sostanzialmente che negli ultimi 30 giorni sono stati ricoverati degli over 80 e non vaccinati sono 125, quelli vaccinati ricoverati sono 128, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che non dovete raccontare alla gente che è giusto vaccinarsi, dovete sollecitarli, però non dovete dire che il vaccino ci esenta. Io sono venuto in questo studio oggi, sono vaccinato da maggio, siamo entrambi vaccinati, prima e seconda dose, però ho dovuto fare un tampone, ho dovuto sottopormi al tampone, perché mi sono dovuto sottoporre al tampone? Perché posso essere contagiato e posso essere contagioso, non finirò in rianimazione molto probabilmente, però posso essere contagiato e contagioso e questo lo dovete spiegare.